Ben ritrovati! Ben ritrovati dall'ippodromo del Mediterraneo per un nuovo convegno di galoppo che propone sette corse in palinzesto e soprattutto pone l'attenzione nella quarta del pomeriggio nel premio Saccara una condizionata per soggetti di tre anni ed oltre impegnati sui selettivi 2.100 metri della pista piccola e sono in sette al via. Ma ad aprire il palinzesto ippico di oggi invece il premio Campagnola Bella, una corsa in handicap discendente per soggetti di tre anni che sono impegnati sullo sprint 1.100 metri della pista Savia infatti da affrontare per i quattro rimasti al via dopo il ritiro di Racuia. Partiti! Si guadagna circa tre lunghezze a Brigante of Ice, poi in terza posizione Livius Monte, quarta e Dragatea. Si va a completare la piegata con Movicollect in buon vantaggio quando si entra in addirittura di arrivo, la sua inseguimento Brigante of Ice, quindi per linee esterne Livius Monte e Dragatea. Siamo ai 200 metri conclusivi con Movicollect in buon vantaggio, prova a recuperare Dragatea, siamo ormai nel tratto finale con Movicollect che controlla la situazione, stravince nei confronti di Dragatea, poi a seguire Livius Monte e Brigante of Ice. Anche con i 61 kg come previsto, Movicollect amministra questa gara e la vince da favorito. Un po' ci ha sbalorditi perché pensavamo di non fare il tracciato in sabbia, è più favorevole il tracciato in erba per lui e invece sempre anche qui aver dato la vittoria. Complimenti! Grazie! Premio Round Pipe per la seconda del pomeriggio, una prova a vendere per cavalli di tre anni ed oltre che saranno chiamati al confronto sui 1700 metri della pista grande e sono in cinque al via. Partiti! Red Charming assume l'iniziativa nei confronti della Surga, poi a seguire per linea esterna i due di scuderia, Super Alessandro e Super Hurrican che ora assumono l'iniziativa. Cavalli dopo i primi 250 di gara con Super Alessandro, il favorito che guadagna il comando nei confronti di Super Hurrican, poi la Surga, Red Charming con in coda il gruppo Saviello. I cinque concorrenti vanno ad affrontare ora la piegata di pista grande con Super Alessandro che guadagna vantaggio nei confronti di Super Hurrican che segue a circa otto lunghezze, poi la Surga, Red Charming che si mantiene lungo la corda e chiude il gruppo a contatto Saviello. Si entra in addirittura di arrivo con Super Alessandro in vantaggio, in buon vantaggio all'intersezione delle piste nei confronti di Super Hurrican, nel compagno di scuderia, poi Red Charming, ancora Saviello che avanza per linee esterne con in scia la Surga. Siamo ora ai 300 conclusivi con Super Alessandro lungo la corda in vantaggio, a centropista risale Saviello con all'interno Red Charming, siamo nel tratto finale con Super Alessandro che vince, si lotta per il posto d'onore con Saviello che pizzica probabilmente sul palo, Red Charming. Possiamo definirla una solo questa vittoria di Super Alessandro? Guarda, un po' temuto perché il collo è partito un po' male, ho problemi a partire, stavolta ho avuto un po' di problemi, ho visto una girandatura, il compagno di scuderia non sapeva andare davanti, ci sono andato io, mi sono fatto io la corsa, il cavallo era superiore, ho fatto tutto da solo. Complimento. Grazie. E siamo giunti alla terza prova del pomeriggio, premio Licinia, handicap discendente di minima per cavalli di tre anni ed oltre, 1.100 metri della pista piccola ancora da affrontare per i cinque chiamati al via. Partiti. C'è lotta per il comando tra Martin Breeze, Archipov e Florinda, poi Arca Titanic e Train Deal. Andatura è buona per la categoria, quando i cavalli vanno ad affrontare la piegata con Martin Breeze, leader, ha una lunghezza e mezza, segue Archipov, poi Florinda, ancora Arca Titanic con in coda al gruppo. A circa 10 lunghezze, Train Deal, si entra in addirittura di arrivo con Martin Breeze, attaccato da Archipov per linee esterne Alcat Titanic, quindi Florinda. Siamo ai 300 conclusivi con Martin Breeze attaccato a fondo da Archipov per linee esterne avanzano Florinda e Alcat Titanic, 4 a giocarsela. Quando mancano 100 metri al traguardo con Martin Breeze all'interno, a largo Alcat Titanic, Alcat Titanic, quindi Florinda, Martin Breeze e Archipov tutti in un fazzoletto, tutti vicinissimi. Anche su una distanza un filino breve, riuscite a vincere? La nostra paura era la distanza, di fatti il cavallo si è ingambato nel finale, è venuto a fare la foto con Florinda e riuscite a mettere la testa avanti. Complimenti. Grazie. E adesso caliamoci nella prova di cartello del convegno di oggi all'Ippodromo del Mediterraneo, nel premio Saccara, una condizionata che impegnerà sui selettivi 2.100 metri della pista piccola a 7 cavalli di 3 anni ed oltre. Ha vinto in maniera convincente, quindi è un cavallo che ci sta. Partiti nel frattempo. Dottor Planet lungo la corda, ora viene rilevato da Javier, quindi Javier si porta a condurre di fronte alle tribune. Poi Dottor Planet, Ottaviano Augusto, Golden General, quinto è Supermanife, sesto Mr. Gotham, poi al settimo posto chiude Futuro Anteriore. Si affronta la piegata di sinistra, l'andatura rimane moderata, con Javier sempre all'avanguardia nei confronti di Dottor Planet, in terza posizione si mantiene Ottaviano Augusto, poi la coppia formata da Golden General e Supermanife, a seguire Mr. Gotham con Isshia Futuro Anteriore che chiude il gruppo. Si affronta la dirittura opposta, non vengono cambiamenti, con Javier sempre in vantaggio. A una lunghezza e mezza si mantiene Dottor Planet con la giubba rossa, con all'esterno Ottaviano Augusto con la giubba a scacchi nero-blu, quindi Golden General, in corda si mantiene Supermanife, a seguire Mr. Gotham in coda al gruppo a contatto Futuro Anteriore. Cavalli che vanno ad affrontare la piegata finale, con Javier sempre in vantaggio, al suo esterno si propone Dottor Planet, in anticipo su Golden General, dietro queste Ottaviano Augusto, Mr. Gotham, Supermanife. Chiude il gruppo sempre Futuro Anteriore, cavalli che fanno ingresso addirittura ad arrivo, con in corda Javier, al suo esterno Dottor Planet, in terza corsia Golden General, all'allargo Mr. Gotham per Varchi, Ottaviano Augusto, poi Supermanife e Futuro Anteriore. Siamo ai 350 conclusivi, con Javier in piena accelerazione, per linee esterne Dottor Planet, per Varchi, Supermanife, all'argo Mr. Gotham e Ottaviano Augusto. Siamo ai 100 conclusivi, con Javier che cerca di svincolarsi da Dottor Planet, che ci crede e ci prova all'argo, Javier ha fatto bene i conti e vince. Quindi Dottor Planet, Mr. Gotham e Supermanife. Una corsa che hai graduato a piacimento, che hai vinto bene, tutto sommato, dopo anche l'attacco di Dottor Planet. Sì, una bellissima andatura, mi hanno fatto fare i miei comodi, ho messo una bella andatura, è allungato il retto, il cavallo a cambiare azione è allungato. L'aveva già corso bene, come ho detto, a Roma. Oggi gli toccava vincere. Complimenti. Allenatore sulla scia di una bella prestazione all'ippodromo delle Capannelle, conferma la buona forma di questo Javier. Sì, il cavallo se la meritava perché un po' al rientro ci ha deluso un po', perché il cavallo è rientrato abbastanza male, perché è un cavallo che lo paga il rientro. Poi a Roma ha corso una categoria abbastanza media-alta, il cavallo è quarto, però lotta alla corsa. Oggi questa è un'altra categoria abbastanza selettiva pure, però siamo contenti che il cavallo ha vinto perché se la meritava la vittoria. Archiviata quindi la condizionata che era la prova principale del palinzesto, adesso procediamo con il premio Giuncata, handicap discendente riservata a soggetti di tre anni ed oltre. 1.400 metri della pista piccola sono da affrontare per gli otto al via. Partiti. Alca Marina di forza assume il comando nei confronti di Red Joe, con all'esterno il top weight Musicet, poi Super Denise, Mr. Yaito, Ego Centric che tira parecchio. Chiude il gruppo Sumiuddinu. Si completano i primi 200 di gara, non avvengono cambiamenti, con Alca Marina sempre in vantaggio nei confronti di Musicet, poi Noir Blue che risale in terza posizione, quarta scivola Red Joe, quinta Super Denise, poi Sumiuddinu, Mr. Yaito e Ego Centric. Cavalli lungo la piegata conclusiva, con in vantaggio sempre Alca Marina. Nei confronti di Musicet, in terza posizione si mantiene Noir Blue a tre lunghezze, Red Joe con in scia Super Denise, per linea interna Mr. Yaito e poi Ego Centric e Sumiuddinu. La retta d'arrivo con Alca Marina in vantaggio al suo esterno, si mantiene il top weight Musicet, a largo Noir Blue, poi ancora Red Joe che avanza a largo dello schieramento. Cavalli ai 200 conclusivi con in corda Alca Marina, centropista avanza Red Joe in corda Alca Marina, a largo Red Joe, poi Mr. Yaito e finale piuttosto serrato con Alca Marina all'interno, poi Red Joe 3-2 Mr. Yaito e... E si chiude il palinzesto ippico di oggi al Mediterraneo con una reclamare abbinata al premio Conte Doiano. Sono i tre anni a scendere in campo sul doppio chilometro in pista sabbia e sono in otto raccolti agli ordini dello starter. In partenza... partiti. La partenza è buona per tutti, anche per i tre debuttanti. In avanti si porta Scrosati, in seconda posizione Pirlo Vomoni, terzo è Cadician, quarto Loon Kay, quinto poi è Gareon con i freni anche Bright Young Thing, 3-2 pure Gentleman e chiude il gruppo Uncino. Gli otto concorrenti vanno ad affrontare la piegata di sinistra con Scrosati e Battistrata, in seconda posizione Pirlo Vomoni, poi Lun Kay e Cadician, a seguire Gareon e Bright Young Thing, quindi pure Gentleman e Uncino. Aumenta il ritmo lungo la addirittura opposta con Scrosati che grado a piacimento in avanti nei confronti di Pirlo Vomoni, che si mantiene in seconda posizione, poi a seguire Cadician e Lun Kay, per linea interna recupera pure Gentleman, a seguire Bright Young Thing, quindi Gareon e Uncino. Si va al completamento dell'addirittura opposta con Scrosati sempre in avanti nei confronti di Pirlo Vomoni, in terza posizione Cadician, quarto Lun Kay, per linea interna pure Gentleman, che si fa sotto i primi, quindi Bright Young Thing, ancora Uncino e Gareon. Si completa la piegata con Scrosati in vantaggio, quindi per linea interna Pirlo Vomoni e pure Gentleman, a largo Lun Kay, con ancora all'esterno Uncino e Bright Young Thing. Siamo ai 250 metri conclusivi, con a largo dello schieramento Uncino, quindi Gareon a lottare i due debuttanti, con all'interno Gareon, a largo lotto di Uncino, Gareon a mezza di margine, Gareon su Uncino, poi Scrosati e Lun Kay vicini per il terzo posto. Giavier, oggi protagonista all'ippodromo del Mediterraneo, l'allievo di Sebastiano Cannavo, conferma il buon periodo di forma e la qualità, e con Giuseppe Cannarell-Lenzella porta a casa la condizionata abbinata al premio Saccara. Grado e piacimento a 2100 metri della pista piccola, respinge 250 metri dal palo, l'attacco di Dr. Planet in netto progresso. Solo una terza piazza per l'atteso Mr. Gotham. Doppio intanto per il giovane Giuseppe Cannarella in giornata e per la scuderia di Antonino Bosco, a segno con Super Alessandro nella vendere del premio Round Pie. Arrivederci con il galoppo al Mediterraneo a sabato 11. Trifio! Grazie a tutti.